Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, nuova settimana, ovvero la settima. Oggi andremo ad allenare il petto. Bene ragazzi, vi avevo detto che facevo il 4x5 con 70 kg e così sarà. Adesso però prima ci andremo a pesare e poi ci vediamo con l'esercizio. Ebbene ragazzi, siamo rimasti sempre a 60 kg. Massa grassa 13.3% rispetto all'ultima volta abbiamo perso il 0.4% di grasso corporeo. Questo vuol dire che il peso rimanendo variato abbiamo convertito il grasso in muscoli. Quindi sta funzionando tutto come previsto. Ovviamente adesso andiamo di panga inclinata 3x10 50 kg. Faremo un 3x10. E ovviamente anche quella inclinata stessa cosa. 3x10 50 kg. adesso ovviamente panga deplenata. Stava prestando brutto ragazzi. Guardate qui dove è finito il peso, incredibile. stava costruito da solo da l'udio. Guardate, c'era il tuo calisci. Sto scerzando. Tu calisci? BAH! ovviamente il prossimo esercizio abbiamo le alzate al cavo basso faremo due serie per 12 al cavo basso e invece apertura cavo alto un braccio per volta faremo altre due serie per 12 ragazzi cominciamo con un tirato dal basso faremo due serie per 12 reps con 8 kg ragazzi grazie a tutti ragazzi brucia da morire ve lo posso assicurare ovviamente adesso faremo la stessa cosa al cavo alto ovvero un'apertura singola sarebbe al cavo alto però grazie a tutti più 5 kg passiamo da 8 kg a 18 kg ragazzi le aperture probabilmente sono molto più leggerne ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.